Raga Un tentativo che andava tentato Eh, grazie Il primo fallo dopo 15 minuti e 30 secondi Grazie Oh Cavolo Era buona Ancora Ma non avete capito che questa palla la perdiamo ragazzi Niente Cioè ma è la quarta volta che lui sferisce la passa a Mininkwist Non ho ancora capito Sì, rigore, ma va a cagare Chessy Guarda qua Cioè ragazzi È la quarta volta che danno palla a Mininkwist Marcato da Chessy Ma come fate ad essere rigore Se Dias neanche ha preso la palla Ma di cosa c'è un check? Ragazzi stiamo scherzando Stiamo Ma un check di cosa? Io sono senza parole Bravo 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 Ah regà Arriva sempre a loro la palla però Ma che è? Ma sembra che siano il doppio loro Ragazzi Porca troia Eh porca troia Però Quattro contro tre ragazzi Quattro contro tre Fa culo Ma va a cagare Ma va a cagare Ma va a cagare Ma si vede chiaramente Chessy che porta via il pallone Immobile Che trova nell'impatto Il piede del numero 79 del Mininkwist Che si rigore? L'impatto che è stato fallutato Non falloso da Chiffy Mi sta probabilmente discutendo Con il direttore di gara Eh sì E va a vederla Chiffy va a rivederla Perché il contatto c'è Passettini Poi fa Chessy Colpisce la traversa La colpisce ancora io Quanto godo Mamma mia Quanto godo Quanto godo Però svegliamoci ragazzi Svegliamoci Perché così non va bene Svegliamoci cazzo Ma io sono preoccupato però Lei va si è fatto a munire Sono preoccupato Cioè è possibile Che non si sia ancora Fatta munire Arriviamo sempre in ritardo Sempre in ritardo su ogni palla Sembriamo da zone Sembriamo Tanto te Hernandez Se hai riuscito a muovere il pallone Bravo Ragazzi usciamo Guarda questo Guarda qua Guarda come è entrato Sacerbi Ma tu ti rendi conto Ma tu ti rendi conto Come è entrato questo Giallo Subito Subito giallo Eccolo Zaccani Comunque Zaccani 1-2 con Pedro Può tirare Zaccani Si oppone Tomori La palla si impenna C'è Calabria Che lotta con Zaccani Ehi Luis Ma potrei anche metterla giù Che cos'è rega Dov'è Lazzeri Dov'è Lazzeri Sempre da quella parte Eccan Dai ragazzi Ma che cos'è Ma che cos'è Stavamo attaccando in tre Abbiamo attaccato in tre Massimo in quattro Come abbiamo fatto a prendere un contropiede Due contro due Lazzeri passeggia Ha passeggiato Lazzeri Appena è entrato Ha passeggiato Dai ragazzi Un tiro in porta Riusciamo a farlo Uno Forse Entra la fine della partita Un tiro in porta Riusciamo a farlo Però Dobbiamo essere molto bravi Ci siamo riusciti a farlo Un tiro in porta Toma Basic Rosso Per Sarri Perché sicuramente Gli avrei detto Massimo E da Maronizzo Gli avrei detto Una cosa del genere Ho preso Rosso Perché è la verità E da Maronizzo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti